Buongiorno, siamo la tua famiglia D'Andrea della cooperativa Ittica Ionica. Siamo la cooperativa che ha in questi anni sperimentato l'orso in cultura Taranto. Oggi siamo arrivati a buon fine facendo le prime raccolte. L'iniziativa di oggi, anzi da ieri, ci abbiamo avuto a Taranto. È stata una bella iniziativa perché dopo tanti anni si rivede a Taranto di nuovo il turismo. Spero che questo vada avanti ancora per i prossimi anni. Spero che la diffusazione sia credita al pubblico con due soldi, due esplice che vengono ad assaggiare il fruto. È un'especialità che oggi siamo riusciti a fare con le nostre ossa. Buongiorno.